ben ritrovati amici di sei a casa e benvenuti ad una nuova puntata oggi partiamo da una storia quella di Mauro Negri partiamo dalla sua storia personale per raccontarvi quella che è la sua professione oggi lui è un life and career coach e quindi do subito il benvenuto a Mauro Negri buonasera buonasera a tutti grazie per essere con noi allora Mauro partiamo raccontando chi sei tu e di che cosa ti occupi allora io ho 26 anni e l'anno scorso mi sono laureato in scienze tecniche psicologiche presso l'università di Verona e successivamente invece di iscrivermi alla magistrale ho scelto di andare a vivere qualche mese a Berlino e nel mentre mi sono iscritto ad un master in life and career coaching e ho pubblicato il mio primo libro in titolo 8 ascoltami mentre non parlo ed eccolo qui ce l'abbiamo proprio in studio ce l'hai portato ascoltami mentre non parlo edito da il rio quindi i nostri cari amici del rio editore li salutiamo anche di che cosa parla allora questo libro nasce dalla mia volontà di raccontare la mia storia e l'11 settembre del 2007 sono stato vittima di un incidente che ho fatto con mio padre in macchina e all'epoca avevo solo 12 anni quindi per me è stato molto difficile e affrontare l'accaduto specialmente nel tempo negli anni a venire e però grazie a un percorso di analisi che di psicoanalisi che ho iniziato sei anni fa e ho recentemente portato a termine oggi non solo riesco a parlarne ma mi è stato possibile raccontare la mia storia attraverso questo libro che quindi è stato scritto in primis nella speranza di aiutare me stesso ma anche appunto nella speranza di poter aiutare qualcun altro che leggendo il mio libro e possa sentirsi meno solo e avere un po più fiducia in se stesso e quando ricordo in quegli anni molto difficili per me mi sarebbe piaciuto molto leggere un libro che parlasse di condivisione supporto sostegno e soprattutto in fiducia in ciò che si sente e quindi questo è quanto è successo l'ho fatto io e con questa speranza per aiutare gli altri anche perché ci sono dei momenti nella vita nei quali ci si sente particolarmente soli sì specialmente anche visto il lungo periodo che stiamo vivendo questo penso spero che possa essere una una spinta nel avere un po più coraggio e come è nata invece la tua passione per il coaching è legata insomma questa esperienza personale che hai vissuto nel 2007 e allora il mio mi sono sempre interessato alla psicologia e ogni materia inerente ad essa e la passione per il coaching è nata grazie all'esperienza che ho vissuto stando a berlino dove ho potuto vedere con i miei occhi come la figura del coach fosse presente in qualsiasi attività e azienda che volesse spostare il proprio focus sul benessere dei lavoratori dei dipendenti e quindi delle persone e quindi sono rimasto fin da subito affascinato da da questo mondo e mi è sempre piaciuto ascoltare e far sì che le persone si sentissero ascoltate e quindi un po per esperienze personali e visto anche il lungo periodo è difficile che stiamo vivendo e ho pensato di mettermi in gioco e cominciare questo mio percorso e che cosa fa il coach allora sostanzialmente il coach accompagna la persona in un percorso di consapevolezza e di crescita sia personale che professionale e aiuta questa persona ad avere maggior consapevolezza di sé e comunque rendendola indipendente dagli altri e quello che fa il coach è tirare fuori le potenzialità che sono all'interno di ogni persona e credere in esse spostare l'attenzione su queste potenzialità e risorse sospendendo il giudizio al modo in modo tale da poter comprendere al meglio la realtà e le credenze che una determinata persona rispetto rispetto a sé stessa e quindi insieme si si costruisce questo percorso partendo da una definizione di obiettivi raggiungibili sia a livello personale che professionale che professionale esatto e rinforzando questa persona positivamente per ogni traguardo raggiunto e con l'obiettivo di creare un piano d'azione volto al raggiungimento di tali obiettivi traguardi ecco chi sono le persone che si rivolgono ad un coach allora a differenza dello dello psicologo dello psicoterapeuta che sono figure che più o meno tutti conoscono ormai la figura del coach non si sofferma sul passato ma mira ad un miglioramento concreto quindi non ha un approccio interpretativo e non fa valutazione di alcun tipo della persona quindi un percorso di coaching sarebbe molto utile per persone che si sentono in qualche modo insicure e che sono alla ricerca di una motivazione intrinseca che gli spinga ad attuare un cambiamento nella propria vita oppure per persone che si sentono in qualche modo bloccate in qualche in qualche aspetto della propria vita da quello professionale familiare e relazionale e quindi per questo tipo di persone per un percorso di coaching sarebbe molto efficace nei in breve in breve tempo comunque ti rivolge anche alle aziende sì sì c'è un percorso apposto apposta per per le aziende e appunto career coaching e prende in considerazione tutto l'aspetto professionale raggiungimento di obiettivi e il porsi delle sfide e portarle a termine quindi è importante avere sempre nuovi stimoli ma soprattutto sapere in che direzione stiamo andando giusto esatto essere consapevoli di della direzione che vogliamo prendere e essere capaci di tirar fuori le nostre potenzialità e soprattutto direzionale la nostra attenzione verso tali tali obiettivi senza farci diciamo mettere in discussione in dubbio da nostre insicurezze ecco è senza ombra di dubbio da quello che mi sembra di cogliere un lavoro impegnativo e servono delle basi solide servono delle basi solide più che basi solide o conoscenze molta empatia e capacità di ascolto e sospensione di giudizi e comunque vedere nell'altra persona una risorsa che il più delle volte rimane bloccata se si riesce a fare quello step in più nel grado di sbloccare no l'energia e le potenzialità che abbiamo tutto risulta essere molto più semplice ecco la figura del coach in europa più diffusa rispetto che in italia e vista l'esperienza che ho fatto per lino mi viene da dire di sì anche se leggermente in maniera un po più lenta stiamo sta arrivando anche qui in italia questa figura che ha un porta dei benefici notevoli e in breve tempo come detto prima nella vita delle persone migliora la qualità della vita e anche l'aspetto della performance lavorativa e quant'altro all'estero c'è questo approccio molto più aperto è molto più presente la figura del coaching nella vita delle persone dall'ambito scolastico lavorativo anche sociale è un lavoro più individuale o di gruppo e può essere fatto anche di gruppo è ovvio che il lavoro individuale risulta essere maggiore efficace più diretto alla agli obiettivi della persona nello specifico e può portare risultati molto più molto più evidenti a un lavoro studiato su misura su misura esatto con un abito tre consigli mauro che ti senti di dare come coach a qualsiasi persona insomma per aiutarla a mettere in moto un cambiamento allora il coach difficilmente da dei dei consigli direttamente però ci sono comunque degli aspetti che risultano essere fondamentali uno tra questi può essere avere consapevolezza della reale motivazione che spinge una persona nel voler attuare un cambiamento nella propria vita e quale quale conseguenze quale impatto può avere questo cambiamento nella sua vita e anche nella vita delle persone che la circondano un altro aspetto può essere quello di trasformare la propria volontà in azioni concrete misurabili attraverso dei risultati e infine iniziare a fare semplicemente a fare l'essere costanti in questo che può risultare l'aspetto più difficile quello dell'essere costanti ma se precedentemente è stato svolto un buon lavoro e si sono raggiunte delle buone consapevolezze risulta essere molto più semplice di quanto sembri Quanto può durare il lavoro con un coach? Un lavoro con un coach in media dura dalle 9-10 sedute un arco temporale di 6 mesi 5-6 mesi non di più perché comunque poi si perde l'efficacia di quello che è l'approccio del coaching quindi molto concreto è richiesto molto impegno da parte di entrambe le parti sia del coach che della persona che ne richiede sostegno comunque ne fa uso immagino sia molto gratificante sia da parte tua sia insomma da parte di chi si rivolge a te poi quando si raggiungono gli obiettivi si è molto gratificante vedere che poi il percorso che è stato intrapreso che si è definito insieme ha portato ai successi che si erano previsti ma non sempre ci sono anche dei risultati che non si era stato in grado di prevedere e quindi tanto meglio hai iniziato una collaborazione da poco anche con Appindustria giusto? sì 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 ci siamo da poco incontrati mi hanno dato la possibilità mi stanno dando la possibilità di iniziare questo mio percorso quindi vediamo cosa succederà ecco anche perché la figura come la tua quella del coach come dicevamo può essere strategica anche all'interno delle aziende bene Mauro grazie davvero per essere stato con noi noi ricordiamo quindi nuovamente il tuo libro Ascoltami mentre non parlo è edito da Il Rio lo troviamo in tutte le librerie o online immagino giusto? sì sia online che sulle librerie punti vendita bene grazie ancora Mauro Negri per essere stato con noi grazie a voi buon lavoro quindi grazie a voi buona serata e buon lavoro ora ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità non cambiate canale